La via rapida dell'emendamento, la scelta riflessiva delle di regione, inclusi quelli che la trattativa non l'hanno nemmeno iniziata, ma accenderebbe qualche perplessità all'interno del governo. In particolare Movimento 5 Stelle e Renziani di Italia Viva chiedono un'analisi più approfondita. Così esiste la possibilità che il sistema di pesi e contrapesi messo in piedi dal ministro alle affari regionali Francesco Boccia per conciliare autonomia del nord e rilancio del sud attraverso il fondo di perequazione non vada al voto parlamentare come emendamento alla legge di stabilità 2020, ma come decreto a parte. Questo aprirebbe una discussione più ampia e forse con tempi più dilattati da gennaio. La legge quadro, presentata da Boccia in Consiglio dei Ministri, è il tassello fondamentale per l'inizio della nuova trattativa con le singole regioni. Se Roma non lo approva, Venezia, Milano e Bologna possono solo aspettare. Intanto si avvicina la primavera con le sue scadenze, una su tutte. Il voto alle regionali per Veneto e Emilia-Romagna.